amici ciao benvenuti in un nuovo video io sono lilla e non sono da sola infatti oltre ad avere una caserva di roba da aprire con voi oggi ho un aspite ed è il mio amico nico ciao ciao allora vogliamo fare una sfida vediamo chi riesce ad indovinare più fanciotti quindi scopriamo se è possibile tastarli e capire cosa c'è all'interno è una sfida difficilissima è un po difficile in più varrà doppio il punto se riusciremo a trovare l'animale che cambia colore chissà se lo troviamo allora ragazzi vi faccio vedere quali sono gli animali che possiamo trovare billy la scimmia autos il pandino r il maialino charlie coniglietto che voglio troppo cerri la ranocchia che voglio troppo ed esi la fochetta che voglio troppo io allora questi li mettiamo qua come pro memoria ne apro uno costano 3 euro e 50 pacchetto edizione alfa e si trovano in edicola curiosi di vederli allora c'è un booklet super colorato forte guarda cosa va ma sono stranissimi ah c'è il tagliandino con i carri e sono fatti così questo non lo mettiamo in acqua calda però se non capiamo subito se abbiamo perso proprio no po lla scimmie la cima di prego di rano no niente non profuma no però sono super super morbidi sono ecco i panciottini che carini allora sfida ok dunque è anche comodo perchè è piccino puoi fare quello che vuoi è vero è tenerissimo ok scegliene uno allora direi questo oh di indovinare allora aspetta che dove va il foglietto colorato c'è perso il foglietto allora secondo me questo è stavo dicendo la stessa cosa allora io dico che il mio è Atos perchè è super grosso mi sembra di sentire le braccine allora si dai io dico si io dico Atos vai è giallo sbagliato in più eh Harry io ho il maiale ma anche io ho Harry no sono di colori diversi sono tutti Harry diversi sono Harry diversi abbiamo un maialino a testa Harry diversi sembra il nome di un gruppo musicale lo apro apri anche il tuo vediamo qui il mio sembra quasi fluo comunque hanno un voto altissimo perchè hanno una morbidezza ma già mi piacciono un sacco si tira adoro 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 allora 0 punti però adesso prenditi il tuo perchè se il tuo cambia colore nell'acqua calda ho vinto hai vinto vabbè hai vinto quale vuoi? direi questo ok allora tasto io spero che ci sia io dico solo quello che spero a questo punto vorrei Charlie io invece punto su quello che hai preso tu prima che è Atos no sembra che abbia le le orecchie mi sa che le spiega no però secondo me secondo me non si sente è difficilissimo bene Carlo va punto su Atos io vado con Charlie pronti? via no io ho beccato un altro maialino però di un altro con racco tu hai preso Charlie la rana allora vediamoli da vicino ma questo è il miglienesimo maialino vi faccio vedere le tinte vi passi quello giallo i tre piccoli porcelli sono bellissimi guarda che vi faccio vedere la rana da vicino perché la rana è un sacco simpatica belli sì allora questo era fuori concorso questo è il tuo questo è il tuo ok acqua calda vado prima io direi che non succede nulla direi nulla è troppo calda prova con i tuoi allora io ci rilancio direi che siamo zero a zero nel suo ambiente l'ultimo niente proviamo questo quello fuori gara ah proprio niente niente come al solito grandissima fortuna lasciamo tutti qua dentro vediamo se qualcosa cambia ah guardate che pucciosità tutti belli comunque vuoto tipo da 1 a 5 5 5 anch'io adesso andiamo avanti e dovremo fare un altro challenge in un altro video promesso perché non abbiamo perso ma non abbiamo neanche vinto ok apri che recensiamo ne recensiamo una testa io prendo quello con la faccia visibile ok io ho questo qua che è assolutamente non visibile e sono gli strezzi 8 morbidissimi testine collezionali tutti vediamo un po' striscare tutte quanto costano vediamo se c'è il mio costo 4,90 euro che per uno squishy direi che è buono devo aprirlo che fa per aprirlo non l'hai aperto forbice ci vuole oppure non si può fare anche qualcosa forbice wow forbici vado prima io però non lo tiro fuori ok vada il mio è questo voto altissimo voto altissimo super super soffice un'altra cosa che devi sapere è che si devono riaprire lentissimamente questa è abbastanza lenta anche tu sono bellissimi bellissimi vediamo se profumano di cibo il mio salitore guarda sentire tu è tu di vaniglia ora non mi dire che sa di sentire tu è sprofumatissimo sa di torta alla vaniglia questo è di torta è nostra non hai l'olfatto secondo me non c'è scritto che gusti che gusti sono allora voto da 1 a 5 sempre 5 allora io dico 4 invece perché i soggetti sono carini però potevano essere più originali tipo potevano fare di colori diversi invece sono tipo la tigre di questo colore l'orso di questo colore però scriveteci anche voi nei commenti che cosa ne pensate ultimo ultimissimo ultimissima apertura abbiamo preso questo che si chiama sputacchiotti è il mio nome preferito esatto è il nostro nome preferito e questo è già un valido motivo per comprarlo però in realtà ci sono tanti tranquillaggi animoletti molto carini e la cosa che è ancora più carina è secondo me fra tutti è il più giocabile perché puoi fare veramente delle gare vi facciamo vedere come vado allora qua c'è un no c'è solamente un foglietto che ti spiega come fare cioè devi schiacciare la pancia uh non ci saremmo arrivati mai e poi ci sono queste tre palline ci sono diverse animoletti che carino il il coniglietto come si può giocare in spiaggia oltre che a casa no le palline non profumano allora vediamo un po' pari riprova ritetto vado vado bellissimo ti prego provale è troppo divertente è bellissimo io paro sei questo voto mille aiuto è carinissimo è carinissimo questo è bellissimo basta è il mio preferito pensavo che i panciotti qui come a brucia anche i panciotti sono proprio belli poi questa cosa della portabilità vince sono diventati ancora più morbidi abbiamo cotto il maiale praticamente allora quindi per me questo numero uno gli strizzi troppo troppo carini i panciotti e gli squishy dai voto uguale perché cioè non voto uguale posizione no uno due tre faccio sì facciamo il podio benché il nome sputacchiotto sia molto molto importante penso che al primo posto metto metto questo gli squishy come facevi prima di conoscermi che non sapevi come erano gli squishy infatti la mia vita è iniziata adesso quindi ok per te uno due e tre io ho uno due e tre perfetto ragazzi chiudiamo qua il video ma vi promettiamo un'altra challenge che finisca almeno con un vincitore almeno uno su due lasciateci un commento e diteci qual è la vostra classifica cioè se preferite questi squishy o questi squishy o questo sputacchiotto noi vi leggiamo e vi riempiamo di codicini ovviamente vi salutiamo ciao 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 però io vi steditolo anche di affetto ciao 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 ciao